Ragazzi salve, prima di iniziare il video volevo precisamente farvi vedere la mappa che ho modificato io stesso con ovviamente Photoshop dove vi faccio vedere tutti i numeri dall'1 al 9 quindi tutte le buche dalla prima alla nonna buca così almeno avete già più o meno un modo in più per avere la sicurezza dove stanno tutti i punti io ovviamente nel video vi faccio vedere appunto tutte le posizioni nella mappa nel puntino per puntino però intanto vi faccio vedere questa qua per appunto farvi capire tutte le posizioni alla perfezione anche se probabilmente che ne so non potete vedere tutto il video allora avete già questa mappa e va bene così e volevo ringraziare anche ElNino27 quindi ElNino27 su YouTube vi invito anche a passare dal suo canale che è una bravissima persona un ragazzino veramente dolcissimo e gentilissimo che mi ha aiutato appunto a realizzare questa cosa mi ha aiutato lui stesso che stava in live dicendomi punti precisi dove io mentre nel frattempo sistemavo la miniatura e tutto vi ringrazio ancora per tutto ragazzi veramente di cuore vi lascio direttamente al video non mi dilungo ancora e buona visione bella raga salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 oggi sono qui per farvi vedere la missione fai buca da diverse piazzuole ok vi faccio vedere tutti i punti esatti da dove inizia fino a dove finisce sono 9 in tutti i punti ne servono solo 5 almeno 5-6 per la missione più o meno però potrebbero essere anche 7 non si sa per certo ma io ve li faccio vedere ugualmente adesso comunque allora intanto ovviamente il punto esatto dove andare precisamente è la nuova Borgo Bislacco ok questi qua sono tutti i punti dove si deve fare buca appunto ok ovviamente per fare buca in questi punti dovete avere appunto ve lo faccio vedere subito la palla da golf la palla da golf ovviamente è il livello 27 del pass battaglia quindi se non l'avete sbloccato il livello 27 del pass battaglia questa missione non la potete fare ma tralasciando questo andiamo direttamente ai 9 punti che adesso vi farò vedere ogni punto e anche il punto della mappa dove sta ok quindi questo è il primo punto che si trova precisamente in questa piazzuola ok e qui c'è il primo punto passiamo al secondo ok ragazzi come potete vedere siamo al secondo punto che praticamente è vicinissimo ok quindi ovviamente i pallini che ci sono qui a terra segnano la direzione dove ovviamente fare buca in questo caso dobbiamo fare buca lì quindi facciamo così e ovviamente facciamo buca no? si? no? non ci siamo riusciti ci riproviamo un'ultima volta vediamo? vediamo se ci riusciamo adesso niente vabbè è molto difficile non è facile passiamo adesso alla terza buca ah un'altra cosa la seconda buca si trova qui qua c'è la prima qua ci sta la seconda ok? la terza in questo caso dovrebbe essere dovrebbe essere qui più o meno però non sono sicura adesso andiamo a vedere insieme a tra poco eccoci qui ragazzuoli alla terza e dico terza buca infatti come vi avevo detto si trova precisamente qua quindi qua c'è la prima qua ci sta la seconda e qui ci sta la terza ovviamente io alla fine di questo video vi metterò direttamente questa mappa con i numerini dei posti quindi qua vi metterò il numero 1 qua vi metterò il numero 2 piccolino al lato ovviamente per farvelo capire per tutti voi ovviamente adesso vi faccio vedere gli altri punti a tra pochissimo eccoci qui ragazzuoli al quarto punto che in questo caso si trova 1 2 3 e 4 qui ok? in questo punto come vi ho sempre detto andate tra i due pallini mirate fate la direzione ovviamente di qua e dovrebbe essere appunto se non sbaglio lì comunque questo è il quarto posto andiamo al quinto tra poco eccoci qua ragazzuoli al quinto posto quindi al quinto punto che si trova precisamente qui ok? qui c'è il quinto punto ovviamente vabbè è facile capillo è sempre borgo bislacco quindi è qui sono qui tutti i punti qua c'è il quinto punto e ovviamente la direzione è verso di là vedete là sotto la palla la pallina da golf deve arrivare là sotto quindi in questo caso facciamo così facciamo così pom e ovviamente deve arrivare precisamente in quel buco che ovviamente ho fatto troppo 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 andiamo alla sesta posizione ok ragazzi la sesta posizione è in questo preciso punto quindi qua ok? comunque andiamo direttamente al settimo punto a tra poco eccoci qua ragazzuoli al settimo punto che si trova precisamente qui ok? in questa parte si trova il settimo punto dove ovviamente ci dobbiamo mettere i rivolti verso di qua e ovviamente fare con la palla da golf lì sotto in fondo e andare a centrare il buco ma pensate male andiamo all'ottava buca quindi posizione eccoci qua ragazzuoli come potete vedere siamo all'ottava posizione che si trova precisamente qui ok? in questa posizione si trova l'ottava buca che in questo caso è lì ok? quindi ci dobbiamo mettere qui fare ovviamente dove è la pallina da golf? eccola qua fare così e ovviamente boom bitch buchiamo? più o meno ok questa è l'ottava buca adesso andiamo all'ultima buca ok? a tra poco ed eccoci qua ragazzuoli all'ultima buca quindi la nona buca che si trova precisamente qui ovviamente dovete fare buca lì lì sotto io spero di riuscire a fare queste missioni perché questa missione mi sa che è un po' la più difficile però comunque qua siamo alla nona buca quindi si trova precisamente qui ragazzuoli che vi devo dire? io vi ringrazio per la visione spero che questa guida appunto di fortnite vi sia piaciuta e vi sia stato molto d'aiuto mi fate sapere nei commenti per favore se qualcuno di voi ha bisogno di qualche altra di qualche altra informazione di queste buche o il modo in cui non lo so quello che volete voi scrivetemelo sotto nei commenti mi raccomando un bel like come sempre è gradito e non si paga quindi state tranquilli è free un bacione in mezzo dalla posta del caos 92 e noi ci vediamo alla prossima guida oppure al prossimo video o a una prossima live bella ragazzi ciao ciao